Musica Musica Comunque a me è un titolo Insomma hai appena detto che sto lasciando chiari segni di cheat Mi ha detto You are clearly cheating Tuzia però ha appena finito di fare i bocchini E io gli ho scritto Like your man L'ho presa bene Eh ma questo mi sta scimitarrando il culo Io sto sparando fricce Oh meno male è finito sto supplizio Allora la mappa è cambiata prima che sono morto Ho finito sto supplì Ho mantenuto la dignità Ho finito sto supplì Ho finito questo rifornimento Ti piacciono i supplì I supplì di supplì Oh bello 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 blu 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 Questo è bellissimo Oh ho sbagliato pulsante Adesso sono l'attaccante del Real Madrid Tu pio posto Tu pio posto Oh ma qui sbarcano i vichinghi No si dall'altra parte Quello con le braccia incrociate nel petto quanto è figo Sì sì è venuto tipo sbarcato con le braccia incrociate nel petto è meglio perchè la barca ha fatto un sbarco mi sto sentin male si vota si oh no ho profanato il suo cadavere è capitato un calcio questo è a prendere due persone seguitemi stanno questi quattro magneto qua dove stanno? oddio ma che sono arrivati la barca è arrivata così con loro con le braccia incrociate sul petto inamovibili hanno una cherezza veramente inedicibile loro sono tipo la brigata di motivazione sono così fighe che gli altri sono molto ispirati bisogna prendere il torcio no non possiamo prendere i nostri cani che devo fare con la torcia? te la devi diventare culo a chi devo dare fuoco? alla al ma cazzo si chiama? alla pira perché non ti chiamo ma cazzo che alla pira ci sono dei cazzo di gesuiti che mi aspettano e tu facci senza di gesuiti di gesuiti questo sta swingando la sua fottutissima la barba enorme aiuta amici padonna mia dai che ci sono arrivato arriva un altro magneto non mi va Paolo non hai visto il tizio che ho tagliato in due che ti seguiva eh ti seguo ci ho provato la pira brucia una volta ogni due anni nooo non fatela spegnere non fatela spegnere non fatela spegnere vai 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 ah ci devo stare vicino? si no qualche altro se arrivano i rossi la possono spegnere quindi tu devi fare muro umano così sblocchiamo al secondo livello di persone cazzo che muovo mazzerà tutti tipo bella vai abbiamo vinto dai mi esce uno per rinascere più avanti vai ma che fate? Pimps mamma mia non so veramente sono rinato sponato sotto il martello di quello